Sono Katia e sono un'insegnante del liceo Giordano Bruno di Torino e grazie al programma Erasmus dell'Unione Europea abbiamo portato 85 studenti e 15 professori in 5 scuole europee diverse per fare ricerca, per fare sperimentazione, per lavorare in team. Secondo me l'Europa si costruisce anche in questo modo. Quest'anno a maggio ci sono le lezioni europee ed è importante andare a votare. Io stavolta voto per una scuola che allarga i suoi orizzonti.